Siamo di fronte a un antico insediamento il Barallino, la cosiddetta Corte dei Merli, un palazzo probabilmente di natura nobiliare che ha una sedimentazione di non meno di quattro secoli. Se noi andiamo a vedere lo zoccolo e il piano sotterraneo dell'edificio, risale tranquillamente al secolo tredicesimo, quattordicesimo, cioè al primissimo insediamento varallino, quando si è cominciato a stabilire un feudo dei Dabiandrate. Poi, fino al secondo piano, secondo la professoressa Pizzetti, si arriva sino al sedicesimo secolo e qua abbiamo questa bellissima struttura a monofora, ad arco a pieno sesto, circondata da una inferriata in ferro battuto e sottolineata poi da un coronamento orizzontale trabeato. Da qui sale poi la struttura del terzo piano e dell'attico, che come si vede è correlato da una serie di arconi ribassati su delle colonnine, il tutto è coronato da un'ampia strutturazione a piano di gronda. In questo cortiletto quindi si deve essere consumata un'interessantissima storia locale e architettonica che deve ancora però avere un compendio di studi efficiente. Se noi poi ci spostiamo, come si vede nel cortile, scopriamo altri elementi che grazie alla collaborazione di alcuni abitanti di questo palazzo mi sono state sottoposti. Questi due piani di macina, bellissimi, che risalerebbero addirittura al sedicesimo secolo o diciassettesimo, fanno bella mostra di sé sotto un porticato che è contemperato da questi tre arconi e da queste colonnine molto belle di tipo dorico toscanico che rappresentano quasi un patio. Se noi poi andiamo quindi alla storia recente, e Quavarallo ci sorprenderà sempre, troviamo purtroppo occultata da una motocicletta una testa di Gorgone, un Gorgoneion che richiama addirittura quelli etruschi delle Antefisse o quelli siracusani e addirittura di Selinuntini. E questo Gorgoneion è però un'opera che un artista moderno, un plasticatore, ha, come dire, correlato da una pigmentazione appoggiato a un'antica fontana. E qui si vede proprio tutta un passaggio stilistico di forte impatto drammatico, dove si è perduto chiaramente il laflato apotropaico, ma dove probabilmente l'artista, che ha una sua spessore, una sua collocazione all'interno del Novecento, pur non essendoci stata conservata la paternità, ha espresso anche una ripresa della testa di Medusa, di Michelangelo Meresi, detto il Caravaggio. Poi, altra sorpresa, questa statua in terracotta, avvolta da un groviglio di rami che ovviamente fanno parte del suo costituto originario e questa statua rappresenterebbe in un senso decisamente moderno che mi richiama Marino Marino, in più che Arturo Martini. Per questa forma estratta nella sua significanza geometrica e nel suo arcaismo però di piani che sono molto elementari, molto sintetici, questa figura rappresenterebbe San Francesco e San Francesco in estasi. Quindi un'altra sorpresa assoluta per chi si ha la pazienza e la costanza di visitare tutti i palazzi nel centro di Varallo, qua siamo a due passi dalla libreria di Piazza Calderini, siamo esattamente al numero Piazza Calderini 5. Invito coloro che vogliono studiare, vogliono esprimere delle teorie sull'architettura, sullo sviluppo della statuaria e sullo sviluppo per esempio degli elementi che fanno parte della vita agraria, della storia agraria di Varallo a venire in questo preciso punto per realizzare magari con documenti alla mano, visto che per ora abbiamo solo la pianta di Mannauft che dà contezza di questo edificio e potranno sicuramente avere nuove scoperte.